Quart'ultimo atto della regular season in cui non mancano motivi di interesse. Il Barletta calcia il 5 ad esempio. Si gioca le ultimissime chance di raggiungere il quinto posto, l'ultimo utile per accedere ai playoff nel campionato di Serie B. La Salinis è chiamata a blindare ulteriormente la piazza d'onore in graduatoria. Il Manfredonia non può concedersi ulteriori passi falsi per sperare di accedere agli spareggi promozione. Resterà a guardare nel weekend invece il futsal Barletta chiamato ad osservare il turno di riposo in attesa di risultati positivi dagli altri campi. I biancorossi di Leo Ferazzano possono così ricaricare le batterie in vista dello sprint finale a partire dal prossimo match casalingo con il Porto San Giorgio in cui saranno padroni del proprio destino nella rincorsa ad un posto nella griglia playoff. Un obiettivo difficile ma non impossibile da raggiungere per il Barletta Calcio 5 che ha già festeggiato l'ottenimento dell'obiettivo stagionale fissato ad inizio stazione e cioè la salvezza con sei giornate d'anticipo tra l'altro. I biancorossi di Antonio Dazzaro tuttavia vogliono continuare l'inseguimento al quinto posto sino a quando la matematica lo consentirà. È fondamentale però battere domani pomeriggio al pala di sfida Mario Borgia fischio d'inizio alle ore 16 il futsal Portos formazione di caratura superiore che però nella girone di ritorno ha reso decisamente meno rispetto alla prima metà di campionato. Salterà la sfida contro il quintetto di San Benedetto del Tronto, l'infortunato Giuseppe Lanotte, tutti gli altri effettivi saranno invece a disposizione di Dazzaro. Trasferta insidiosa per la vice capolista Salinis che affronta il Cus Ancona, una delle squadre più in forma del momento nel giorno C. Più semplice invece l'abbinamento per il Monfredonia che ospita il Vislanciano. Grazie alla vittoria in trasferta del derby contro il Brasilia Barletta, il città di Andria ha ottenuto la certezza di accedere ai playoff nel campionato di Serie C2 con 5 giornate d'anticipo. Il quintetto allenato da Filippo Mastroviti secondo in classifica può ancora puntare però alla promozione diretta visto che la capolista Fuzz Alcanosa è distante tre soli punti e sarà avversaria del città di Andria proprio nell'ultima giornata della stagione regolare. Per prima cosa però il quintetto andriese deve far rispettare il fattore campo nel confronto casalingo di domani contro il 5 Foggia, quarta forza del girone A. Il match è in programma al Palasport di Corso Germania con inizio previsto alle ore 16. Sfronte generazioniㅎ Un nonno Sfronte generazioni